Stefano Volpi, una strategia di sicurezza di rete efficace oggi comporta una grande capacità di analisi delle vulnerabilità. Quanto è importante saper anticipare, oltre che reagire in tempo reale, gli attacchi? Come si agisce in chiave retrospettiva per correggere gli eventuali errori di impostazione? Oggi la sicurezza informatica rappresenta finalmente un fattore abilitante per lo sviluppo del business e della trasformazione delle aziende. Fino a ieri la vedevamo come un costo, oggi invece con progetti quali Internet of Things, of Everything, piuttosto che progetti di data center, SCADA, la sicurezza è diventata fondamentale ed è certamente a supporto. Dobbiamo far fronte con delle minacce differenti, molto più sofisticate rispetto a ieri, di cui tutti ben sappiamo, pensiamo ad APT fra tutte e quindi dobbiamo cercare di controbattere in maniera differente. Ci sono molti problemi, il perimetro delle aziende si è allargato drammaticamente in questi anni, pensiamo a tutto quello che è il fenomeno di bio-on-device, virtualizzazione, cloud, quindi il perimetro allargato è certamente un problema. La polverizzazione delle applicazioni, che non è più statica ma dinamica all'interno dell'infrastruttura, delle minacce abbiamo parlato e quindi certamente bisogna avere un approccio molto diverso rispetto al precedente. Oggi dobbiamo pensare a difendere l'azienda e vedendo per prima cosa il contesto dell'azienda, quindi dobbiamo avere degli strumenti, dei mapper che possano vedere in tempo reale tutto quello che è l'infrastruttura del cliente, dalla applicazione al sistema operativo, al dato, al network, alla vulnerabilità e vedere il cambiamento. Quindi il poter vedere il perimetro è certamente molto molto rilevante. E quindi dobbiamo considerare che dobbiamo avere degli strumenti nuovi, innovativi, moderni. Certamente però il grande cambiamento di quello che sta avvenendo nella sicurezza informatica ha portato a dover declinare un nuovo paradigma. Non sempre riusciamo a bloccare le minacce. Ci sono due tipi di aziende, le aziende che hanno del malware residente all'interno dell'azienda e che sanno di averlo e ci sono le aziende che hanno del malware residente e che non sanno di averlo. Quindi dobbiamo certamente aiutare il cliente a capire cosa fare una volta che un attacco è andato a buon fine. Dobbiamo parlare di un nuovo paradigma, un paradigma che si basa sulla visibilità, sulla difesa delle minacce, ma che possa essere basato su una piattaforma. E soprattutto dobbiamo occuparci della sicurezza prima, durante e dopo che l'attacco è avvenuto. Alla fine del 2013 Cisco ha completato l'acquisizione dello specialista in sicurezza intelligente Sourcefire. Qual è l'impatto di questa acquisizione sulla Cisco Security Suite? Quali sono i vantaggi per i clienti? Dal 2013 ad oggi Cisco si è impegnata con dei grandissimi investimenti nel mondo della security. Ha completato diverse aziende, tutte legate a completare l'offerta Cisco e poter produrre una piattaforma olistica integrata che potesse dare valore al cliente. Sourcefire faceva certamente parte di questa acquisizione. È stata una delle acquisizioni più onerose nel mondo della security da parte di un vendor e ha portato certamente tutto l'aspetto di contromisure alla minacce basata su degli strumenti di next generation, IPS, firewall, application control, APT, con il quale Cisco ha potuto certamente beneficiare molto per quella che poteva essere la strategia non tanto di difesa ma di creazione di una piattaforma che potesse appunto aiutare il cliente a prevenire e controbattere ma soprattutto seguire il cliente dopo che quello era accaduto. Sourcefire ha un grandissimo prodotto di next generation IPS ma certamente anche degli strumenti che aiutano l'analisi forensica, la trajectory e la remediation di tutto quello che avviene dopo che l'attacco è avvenuto con successo in casa del cliente.